benvenuti e ben ritrovati al nuovo episodio di sesso e volentieri con la dottoressa valentina pontello ginecologa e me samantha anselmo esperta l'educazione sessuale in questa puntata parleremo di infezioni a trasmissione sessuale che cosa sono le infezioni valentina ciao samantha e ciao a tutti quelli che ci ascoltano si tratta di infezioni virali batteriche e parassitarie che si possono trasmettere con un rapporto sessuale sia di tipo penetrativo vaginale anale ma anche nel rapporto orale si tratta di una problematica molto comune soprattutto nella fascia d'età sotto i 25 anni quando si tende a cambiare più frequentemente partner l'ultimo rapporto dell'istituto superiore di sanità ci dice che le infezioni a trasmissione sessuale o its negli ultimi 20 anni sono complessivamente in aumento con un calo di segnalazioni nel 2020 meno 20 per cento probabilmente dovuto alla pandemia in controtendenza c'è stata una significativa riduzione di lesioni da hpv virus papilloma di cui ora parleremo quindi entriamo un po nel dettaglio spiegaci cos'è questo virus papilloma virus papilloma è un virus a trasmissione sessuale più frequente in sigla si chiama hpv perché vuol dire human papilloma virus che da solo rappresenta oltre il 40 per cento delle its segnalate ne esistono diversi tipi alcuni causano le verruche su mani e piedi che si prendono per contatto per esempio in piscina quindi non sono quelli genitali quelli genitali invece si distinguono in basso e alto rischio tumorale perché è un virus che può entrare rimanere nelle cellule e in alcuni dei casi essere causa di lesioni pretumorali e queste se trascurate possono diventare lesioni tumorali appunto negli anni si distinguono quindi con dilomi de genitali esterni che sono lesioni benigne che non degenerano sono chiamate creste di gallo sono delle escrescenze color carne che si vedono molto bene e si sentono sui genitali esterni mentre non si sentono i condilomi interni tumori del collo dell'utero del pene dell'anno e del cavorale si trasmette anche con i rapporti oro genitali quindi questo è importante da ricordarlo l'incidenza dei condilomi genitali si sta riducendo negli ultimi anni grazie alla vaccinazione e segna meno 30 per cento dal 2018 il vaccino hpv è destinato principalmente alle persone maschi e femmine di 12 anni in età cui si suppone che non siano ancora avvenuti i primi rapporti ma si può fare tutti essendo un farmaco approvato per persone fino a 45 anni è importante fare questo vaccino perché il virus è molto comune quando si iniziano ad avere rapporti l'ottanta per cento delle persone si contagia con virus hpv che poi viene eliminato dal sistema immunitario ma in alcune persone può persistere e riattivarsi anche a distanza di tempo per cui per esempio se una donna ha un test hpv positivo a 40 anni appunto test hpv è lo screening cervicale ed era sempre stata negativa in precedenza non vuol dire che il partner sia infedele ma che semplicemente si è reattivato un contatto con un virus che è avvenuto molto tempo prima il vaccino è consigliato anche a chi ha avuto lesione del collo dell'utero e quindi anche a chi ha un'infezione già in corso ricordo anche che il preservativo da una protezione parziale da hpv perché rimangono delle zone di cute che sono scoperte quindi non toglie del tutto la possibilità del contagio anche se la riduce notevolmente ora tiriamone fuori un'altra parliamo dell'herpes virus l'herpes virus o hsv herpes simplex virus esiste in due tipi tipo 1 orale tipo 2 genitale ma la localizzazione non è esclusiva nel senso che il tipo 1 orale può colpire anche genitale e viceversa si contrae tramite rapporti vaginali anali orali soprattutto quando il partner ha o la partner ha delle lesioni attive ma non solo ci sono dei casi in cui la mucosa genitale orale rilascia virus anche senza segni c'è anche senza la famosa bolla sul labbro quindi se il nostro o la nostra partner ha spesso la bolla dell'herpes utilizziamo una protezione che può essere per esempio il preservativo per pene oppure l'oral dam per la vulva il virus dell'herpes è un virus che persiste nei nervi quindi può riattivarsi a seguito di stress febbre o generali cali del sistema immunitario alcune persone sono costrette a prendere delle terapie antivirali per mesi o per anni per tenere sotto controllo questo problema quindi è molto importante prevenire quindi non prenderlo perché non si guarisce e non esiste un vaccino l'incidenza secondo l'istituto superiore di sanità è più o meno costante con una maggiore frequenza nella fascia d'età sopra i 45 anni soprattutto in uomini eterosessuali ma esistono altre tipologie di virus a trasmissione sessuale giusto sì per l'epatite b esiste un vaccino specifico mentre per l'epatite c è stata recentemente trovata una cura risolutiva ancora non esiste per h e v una cura o un vaccino ma i farmaci permettono una buona aspettativa di vita e la ricerca è sempre in evoluzione ricordiamo che h e v non è un'infezione a rischio solo per le persone omosessuali ma anche per le persone eterosessuali nel report dell'istituto superiore di sanità i nuovi casi di h e v dal 1991 ad oggi sono persone giovani con un'età media di 33 anni con una maggiore incidenza tra eterosessuali e chi ha avuto sei o più partner negli ultimi sei mesi la diagnosi a volte arriva per un test del sangue fatto in occasione del riscontro di altre infezioni a trasmissione sessuale soprattutto clamidea gonorrea e sifilide mentre non c'è correlazione tra h e v e virus papilloma o virus dell'herpes nel caso di un rapporto a rischio per h e v si può richiedere la prep che è una terapia farmacologica che blocca il virus prima che entri nelle cellule viene somministrata da uno specialista infettivologo in centri specializzati trovate link nella descrizione dell'episodio se ne è parlato in un episodio del podcast solo se ti rende felice lo linkiamo per chi vuole approfondire i genitali poi possono essere sede anche di infezioni cutanee che non sono solo dei genitali come il mollusco contagioso cioè che può interessare anche altre zone del corpo si manifesta con delle vescicole con un puntino al centro dranno prurito e possono tornare anche dopo averle bruciate con il laser parliamo dei batteri qual è il più comune il batterio più comune è la clamidia si tratta di un batterio sprovvisto di parete cellulare che vive all'interno delle cellule e si trasmette esclusivamente per contatto sessuale circola soprattutto tra i giovanissimi ed è importante conoscerlo perché può essere causa di infertilità e infiammazione pelvica nella donna l'incidenza nella fascia di età sotto i 25 anni è quattro volte più alta rispetto ai soggetti di età superiore e risulta in aumento negli ultimi 15 anni con l'eccezione del 2020 che è stato l'anno della pandemia dove nessuno ha fatto l'amore scherzo sfatiamo un mito sulle infezioni a trasmissione sessuale per la maggior parte sono asintomatiche come la clamidia l'assenza di sintomi non esclude le its ma possono essere ricercate con test specifici che è opportuno naturalmente richiedere quando iniziamo una relazione con un nuovo partner nel caso di un rapporto occasionale bisogna sempre utilizzare un contraccettivo di barriera come preservativo per pene o per vagina altri batteri responsabili di its sono per esempio la sifilide e la gonorrea la sifilide si manifesta con un nodulo non dolente che poi guarisce ma se non si prende l'antibiotico la sifilide rimane nell'organismo e può dare lesioni in tutti gli organi nel corso degli anni ingrossamento linfonodale anche la gonorrea si manifesta con scolo purulento dall'uretra nel maschio nella donna può dare dolori pelvici ma comunque sintomi più levi per cui può essere difficile la diagnosi va fatto un tampone in un laboratorio specializzato e va richiesto in modo specifico questo germe altrimenti si rischia di non fare diagnosi sifilide gonorrea non sono solo infezioni di ricordo storico o che colpiscono persone molto promiscue ma stanno aumentando i casi ed è importante conoscerle anche perché si curano con antibiotico tocchiamo ora l'argomento dei parassiti il parassita più comune tricomonas vaginalis un protozoa che abita nelle vie genitali urinarie si trasmette solo per contagio sessuale come anche i batteri di cui ho parlato prima la clamidia la sifili della gonorrea può dare secrezioni grigiastre schiumose prurito e si cura con un antibiotico specifico altri parassiti sono pidocchi e scabbia che colpiscono la parte cutanea esterna e si trasmettono anche per contatto non solo sessuale ma ad esempio con lenzuola o abiti contaminati anche in questo caso il preservativo non protegge da questo tipo di infezioni disbiosi ci sono infezioni che si trasmettono anche per via sessuale ma non sono delle its sì un esempio classico è la candidosi genitale la candida è un fungo normale commensale dell'apparato genitale e dell'intestino cioè sta normalmente nel nostro corpo e quando non è in equilibrio con l'ambiente vaginale per vari motivi come cure antibiotiche stress eccessiva assunzione di zuccheri con la dieta la candida cresce in eccesso e da i classici sintomi di perdite vaginali biancastra ricotta arrossamento e prurito se si hanno rapporti in questa situazione anche al partner o alla partner possono venire dei sintomi di candidosi ma non è detto che sia così cioè se il suo sistema immunitario è molto allenato e sa tenere sotto controllo questo germe ci potrebbero anche non essere sintomi nel partner vale la stessa cosa per altri commensali genitali come garnerella e urea plasma torniamo ora a un discorso generale quanto ne sanno i ragazzi delle infezioni e trasmissione sessuale l'istituto superiore di sanità ci dice che i ragazzi ne sanno poco ad esempio conoscono poco la clamidia mentre per hpv per papilloma se ne parla un po di più visto che c'è la vaccinazione e questo è un motivo per parlarne eh prima con il pediatra e quindi anche in famiglia se non si conoscono le itse soprattutto se non si usa un contraccettivo di barriera il risultato è che queste infezioni stanno aumentando come appunto ci sta dicendo l'istituto superiore di sanità sarebbe importante parlarne in famiglia a scuola e con il medico c'è un aspetto culturale è un tabù parlare di infezioni a trasmissione sessuale anche perché chi ce l'ha viene trattato purtroppo come autore viene considerata una persona promiscua soprattutto se è una donna e chiaramente non è detto perché una persona può avere un solo o una sola partner che le trasmette un'infezione al primo rapporto e quindi avere un'infezione sessualmente trasmissibile non è indice della promiscuità sessuale e alimentare questo stigma può allontanare alcune persone a cercare aiuto è sbagliatissimo il medico dovrebbe solo curare e non giudicare abbiamo detto anche che l'uso di un contraccettivo di barriera purtroppo non sempre impedisce la trasmissione esatto e ricordiamo che le infezioni a trasmissione sessuale coinvolgono allo stesso modo sia le coppie eterosessuali sia quelle omosessuali tutti dobbiamo proteggerci se la nostra relazione diventa esclusiva si possono fare test specifici prima di interrompere l'uso di un contraccettivo di barriera per passare per esempio a un altro tipo di contraccettivo come la pillola oppure se si è avuto un rapporto occasionale senza protezione i test specifici sono tampone vaginale e cervicale esami del sangue per il maschio esami dell'orina con test di amplificazione genetica per la ricerca di micro-organismi per la donna riferimento per questo tipo di infezioni è il ginecologo o il dermatologo per l'uomo l'urologo o il dermatologo noi vi ringraziamo ancora una volta di essere stati qui con noi ci trovate su tutte le piattaforme di podcast e sui social siamo cacciolavalentinapontello underscore ginecologa e prevenzione per piacere grazie a tutti e alla prossima ciao alla prossima